E' stata interrogata dagli investigatori della squadra mobile di Treviso la giovane prostituta cinese che domenica ha accolto nell'appartamento in cui vive in via Brandolini d'Adda un commerciante trevigiano 60enne morto di infarto durante il rapporto sessuale. Sul suo corpo non è stata disposta l'autopsia ma solo un esame esterno. Il 60enne era cardiopatico e in passato gli sono stati applicati alcuni bypass coronarici. Intanto alcuni condomini di via Brandolini non si dicono troppo sorpresi per ciò che accadeva nell'appartamento. Più di qualche sera quando vengo a casa mi siedo e mi fumo il sigaro qua fuori e ogni tanto vedo qualcuno col telefonino che chiama, fa, dov'è, dove si sposta e vedo sempre il via vai di ragazzi, ragazzi, uomini anche dopo tutto, che cercavano e una sera un uomo mi fa sa dov'è l'appartamento. Nei dintorni sono in molti a raccontare di non essere sorpresi per la presenza di questi appartamenti a luci rosse, anzi sembra che Treviso sia una città ricca sotto questo punto di vista. So che ce ne sono da qualche parte ma effettivamente non saprei dove sono situati i posti dove ci sono queste case di appuntamento. Qualcuno, a microfoni spenti, fa addirittura capire quanto sia fiorente e diffuso questo mercato in città.